Centria, la società di distribuzione di Estra, ha attivato 83.000 bonus sulla bolletta gas. La misura sociale prevede di ridurre del 15% la tariffa alle famiglie a basso reddito. Estraclima ha realizzato la riqualificazione energetica del Conservatorio San Niccolò di Prato. L'intervento consentirà il 28% di risparmio energetico e ridurrà del 55% le emissioni di anidride carbonica. Estra e Legambiente realizzano Live Green, la app gratuita per informare famiglie e cittadini sui temi dell'energia e della sostenibilità ambientale con il calcolatore dei consumi domestici. Continua la collaborazione di Estra con il Museo del Tessuto di Prato. Estra diventa sponsor delle attività istituzionali del Museo.